Il Consiglio Comunale è importante. In Giunta ha dovuto fare una variazione di bilancio e oggi abbiamo approvato appunto questo nuovo bilancio di previsione. Questo ha determinato, a me dispiace, purtroppo un'incomprensione con alcuni consiglieri di opposizione perché probabilmente non hanno avuto il tempo di verificare la nuova documentazione e in una contestazione che è nata da questo equivoco hanno abbandonato l'Aula. Sicuramente possiamo tranquillamente ridefinire un po' i limiti del percorso che è stato messo in campo e giustificare questa presa di posizione con documenti alla mano perché le attività che abbiamo messo in campo sono nel pieno rispetto delle regole. Dispiace che per posizioni di natura politica si prendano decisioni di abbandonare l'Aula del Consenso Civico perché presumo che nel Salone del Consiglio Comunale c'è la possibilità e lo spazio di poter redimere qualunque forma di dubbio o di contestazione sempre che venga posta in maniera civile e democratica.